Buonasera a tutti e dal vostro grande Capitano Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Scusate, è appena terminato Verona-Fiorentina valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Terminato un po' a sorpresa sulla carta con la vittoria del Verona per 1-0 sulla Fiorentina con gol al 66esimo di Di Carmine. In virtù di questa vittoria, il Verona addirittura sale da 15 a 18 punti, mentre la Fiorentina rimane a 16 punti. In un primo tempo tra le due squadre a tinte giallo-blu, la squadra di Iulia ha cercato maggiormente la via del gol in questa prima frazione, costringendo l'estremo difensoria Dragowski agli straordinari in più di un'occasione. Viola, dopo aver perso nei primi minuti di gioco per l'infortuno il proprio Capitano e il leader difensivo Pezzella, hanno faticato a proporsi in avanti fidanzo solamente all'accelerazione dei francesi Riberi per impensierire la ritrova di Scalicano. Nel secondo tempo, al 66esimo, arriva il gol che sblocca la partita di Di Carmine. Amrabazio serve sulla fascia a destra Faraoni che la mette in mezzo per Di Carmine che, dopo il vero di Verre, il limite dell'area di rigore, caccia di prima intenzione trovando l'angolino basso dalla sinca di Dragowski. L'Elas Verone batte con merito alla Fiorentina grazie ad un'ottima prova corale di tutta la squadra. Gli Scaliceri dominano la gara concedendo pochissime in viola e prodante a caso i tre punti grazie al gol dell'attaccante di Carmine. Io voglio dire, veramente pessima prova della Fiorentina, adesso dovrebbe essere sempre più in discussione l'allenatore Vincenzo Montella che secondo me non è assolutamente l'allenatore ideale per la Fiorentina. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Una buona serata dal vostro grande capitano Napoli, Verona batte Fiorentina 1-0. Ciao io!